ninfea asmr vi è piaciuto tantissimo mi avete lasciato un sacco di like ha avuto un sacco di visualizzazioni quindi ho evinto che si tratti di un genere che vi piace e vi rilassa oggi ho svariati capi molto più difficili rispetto al video precedente perché si tratta di alcune camicie addirittura un cappotto insomma una sfida sicuramente più ardua ma inizierei subito questa camicia fa anche un suono molto triggeroso ho messo il microfono anche qui vicino al ferro in modo da sentire bene bene il suono del vapore non so neanche da dove partire allora aspetta non so se farla a rovescio ma questo è cotone non penso sia necessario parto dal colletto non so se farla a rovescio non so se farla a rovescio non so se farla a rovescio molto bello il suono dell'acqua e del vapore abbasserei un velo perché l'ho messo al massimo mi sembra un po' eccessivo un po' eccessivo purtroppo da questo lato non si vede benissimo ma ho una profondità di ripresa piuttosto stretta e quindi non riesco a inquadrare da più lontano di così ora le maniche grande incognita vediamo questo è uscito dall'asciugatrice non strobicciata di più cioè praticamente è uno straccetto non serve a nulla mettere antipiega è un po' eccessivo e ripeto che tra le mie doti non credo di annoverare quella della grande stiratrice però in effetti i suoni sono meravigliosi diciamo che mi accontento che i capi non siano troppo strobicciati aspetta è decente questa manica molto meglio di prima questa è altrettanto strobicciata è un po' eccessivo ma c'è troppo il suono dell'acqua che si muove all'interno per questo ferro io ne devo mettere beh dai anche dietro è venuta bene il risultato mi sembra discreto rimettiamo rimettiamolo sull'appendino perché questa finisce dritta nell'armadio di solito un bottoncino lo leggo anche un paio in modo che stia bene al suo posto ok no ho legato il bottoncino sbagliato oddio vedete fare le cose alla cieca ok il bottoncino giusto è questo è questo aspettate ok risultato non male il collettino non si vede bene ma è stirato bene proseguiamo con questo capo è un capo estivo e è strobicciatissimo anche lui soprattutto le maniche si sono strobicciate questo è in cotone un cotone molto leggero non ricordo neanche dove dovrebbe darli file ho preso tanti anni fa però d'estate lo uso piuttosto spesso quindi e non si è rovinato negli anni ok questo è un po' più semplice c'è anche questo bottoncino molto carino ah ecco perché non riesco ok perché aveva la manichina arrotolata di qua per l'altra parte no ok l'ho lavato con la manichina arrotolata ok e stiro questo pezzettino qua perché è tutto struppicciato e anche questo fiocco nonostante poi ovviamente io andrò ad annodarlo quindi il fatto che sia stirato meno non è determinante veloce che c'è su voilà l'ultimo pezzettino che mi manca sembra che sto facendo tutto in modo casuale ma in realtà ho ben chiaro ciò che ho stirato e devo stirare ok e anche questo lo metto nell'appendino ecco fatto non mi sono dimenticata del tour dell'armadio è una cosa che farò ma al momento non riesco a girarvelo perché sto aspettando un ultimo scaffale che devo mettere in un punto dell'armadio quindi una volta che avrò quello scaffalino poi vi giro il video allora questo giubbino in realtà è praticamente stirato ma nella parte inferiore ci sono queste pieghe veramente antiestetiche che devo andare a eliminare ok anche nella parte frontale che peraltro mi sa che queste pieghe erano native perché il colore è scolorito intorno alle pieghe come se il lavaggio che avesse fatto l'azienda fosse stato fatto proprio intorno a queste pieghe cerco di appiantire vedete che il lavaggio sembrava fatto proprio intorno a questa piega il lavaggio del jeans ovviamente il resto ci siamo qua è tornata un po' la piega ma perché è come se fosse è come se avesse una sua forma propria e non riesce a stare stirato ma perché magari gli ho dato un altro botticino eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua pronto per l'armadio ora un altro capo super difficile c'è questa camicetta lì la stupenda di Nara Camice che ha 100.000 anni regalo di compleanno tipo dei miei un po' 18 o 19 anni tu sguardo la voce nasale non sono ancora guarita però per chi me l'ha chiesto la serata di venerdì è andata molto bene mentre la serata di sabato è stata annullata perché il cantante il cantante che canta insieme era malatissimo ha avuto la laringide quindi tutti malati però se con il raffreddore in qualche modo ce la si fa con la laringide è impossibile è un po' Grazie a tutti. 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 Ok, ora ste maniche io come caspita le devo stirare, che sono tutte... Allora... Allora... Si, dai meglio? Allora... Beh, 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 beh... Non male... Cioè, raga, c'è un pelucco che... Non male... Vero... Cioè, in confronto all'altra... E' un po'... Vediamo... No, un attimino... Sì, forse sì... Ok... Le ho subito riburrugate... Molto meglio il fiocchino... Aspetta... Che... 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 Sì... Ragazzi... Ragazzi... Ragazzi, ora abbiamo un cappotto... Ma... Ma mi sa che devo stoppare un attimino il video... Perché ci stiamo avvicinando alla mezz'ora e non so se... Ehm... Farei in tempo... A stirare anche questo... Quindi... Arrivo subito... Vediamo un po' come fare per stirare... Questo cappotto super stropicciato... Che poi non è un cappotto... Scusate, è un trench... E' un trench di un colore stupendo... Che anche questo si perde nella notte dei tempi... L'avrò preso quando avevo boh... Anche questo 18 anni... Ero alle superiori... A presto... In shield me spiando e scosciato... come piedsi... È . Puigliare anche questo videre la pompa... E... Eh... Ehm... In... Ehm... Ehm... Sì- giustamente io lavo tutto da me forse questi capi sarebbe meglio portarli in tintoria giustamente eh sono lontani quei giorni in cui la giovane mi stirava addosso le cose con la piastra dai tempi beh ditemi nei commenti se nessuno di voi l'ha mai fatto non sicura di si magari vi ho dato l'idea geniale ma cos'è che è questa piega dentro forse è la tasca boh ma no è la fodera buongiorno 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete, era della marca Baby Angel, marchio che vendeva OVS e che adesso purtroppo non esiste più. Era la linea di fiorucci. Prima di metterlo via stiro anche la sua cintura. Grazie. Non so perché, ma è un tessuto che fa fatica, come vedete, a stirarsi. Eppure il ferro è una temperatura molto alta, gli sta sparando anche il vapore. È un tessuto spesso, non saprei dire se è tipo cotone o qualcosa di simile. Non sembrerebbe sintetico. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Anzi no, di qua. eccolo qua mi rimane solo uno uno un capo e questa semplicissima camicia nera anche questa tipo ha un numero di anni assurdo presa da questa è la stiera rovescia perché ha un tessuto molto fine da H&M se non sbaglio non so che tessuto sia onestamente se mi ricorda il cotone vediamo 49 cotone 24 nylon 24 poliestere 2 no 3 spandex un po' di cotone c'era un po' di cotone c'era questo è rispettare altri un po' più facile forse questo tessuto misto si stirà più facilmente si è leggermente arruinata qui ma come direi che va bene lo messo su un po' storia aspetta aspettate non combaciano i bottoncini ok sono un po' troppo larghi questi appendiabiti quindi le camicie che hanno le spalle un pochino più sferette ci stanno un pochino maluccio e niente infatti io spero davvero che il video vi sia piaciuto ho cercato di parlare un pochino di meno e stirare un po' di più perché mi avevate detto che vi piaceva molto il suono del pello da stiro e avreste preferito meno e avreste preferito meno e quindi insomma faccio un po' un po' per accontentare tutti finalmente ho un po' meno naso chiuso anche se ancora ho raffreddore quindi anche la voce dovrebbe essere un pochino più piacevole io vi mando tanti tanti tantissimi baci il microfono è qui quindi se sono girata da questa parte è perché vi sto parlando proprio vicino al microfono e noi ci vediamo al prossimo video buonanotte infatti miei buonanotte 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 buonanotte